L'imprenditrice delle costruzioni Maria Meglia Lai è la nuova presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. Un'elezione all'unanimità da parte dei delegati regionali dell'organizzazione che hanno scelto Lai, già presidente provinciale per Sassari di Confartigianato Imprese, per affrontare le sfide che l'imprenditorialità artigiana dovrà affrontare nei prossimi mesi. L'idea fondamentale del gruppo che si sta accingendo a prendere la dirigenza di questa associazione è soprattutto quello di proseguire nella continuità del presidente Mazzuzzi con la squadra che in questi quattro anni ha portato la Confartigianato ad occuparsi soprattutto di credito, di innovazione e di tecnologia. Uno dei baluardi di questi anni è stato senza ombra di dubbio la ricerca del proseguimento della 949. Chiederemo chiaramente alla regione Sardegna di proseguire, di finanziare anche per l'anno a venire l'unica legge che sta dando l'opportunità agli artigiani di creare davvero uno sviluppo economico per questo territorio. Unica donna al momento alla guida di un'associazione imprenditoriale sarda, Lai porterà avanti anche l'attenzione che l'associazione riserva alle imprenditrici artigiane dell'isola che costituiscono il 25% degli associati Confartigianato. Anche dal punto di vista della parità di genere Confartigianato riterrà assolutamente di mettere in gioco tutte le proprie amministratrici perché ne abbiamo tantissime, abbiamo delle imprenditrici di grandissimo livello che stanno comunque cercando di ottenere degli spazi anche per chi sta iniziando questo tipo di lavoro, per cui abbiamo anche delle start up di imprenditoria femminile alle quali stiamo affiancando per cercare di dargli un'impronta che possa consentirgli di aprire mercati che non siano soltanto né sardi né soltanto nazionali, ma addirittura lavoreremo anche sulla parte dell'internazionalizzazione.